Buongiorno a tutti, questo è un video per il contest organizzato da Le Croix è un contest creativo il regolamento prevedeva di presentare dalle 3 alle 5 creazioni massimo appunto di cose fatte a mano io ho cercato di raccogliere 5 creazioni che prendano varie tecniche allora ho scelto quelle che secondo me erano più particolari ne avevo molte altre da farvi vedere ma ho deciso di proporvi queste quindi spero che vi piacciano allora la prima cosa che vi propongo è fatta con la tecnica del cucito e del pannolenci questo è un portamonete è il mio primo portamonete in pannolenci l'ho cucito a mano e comunque un pochino si vede perché è il mio primo caputo che ho fatto pannolenci rosa davanti ho applicato questo fiocchetto l'ho applicato semplicemente con della colla a caldo ed è un fiocchetto rosa con questa piccola catenella e poi ho messo come vedete come vedete ho messo il velcro all'interno sempre riuscito a mano vedete? in modo tale che non si perda nulla quindi poi si prende e rimane tutto a posto diciamo allora qui per mettere il velcro naturalmente ho dovuto fare la cucitura qui però secondo me sta bene messa fuori quindi ho deciso di lasciarla fuori poi qui ho fatto delle cuciture belle forti ne ho fatte parecchie prima ne ho fatta una al centro e appunto l'ho fatta sia da questo lato sia da quest'altro invece qua dietro ne ho fatta un'altra che si attaccasse solo solo a questa parte qui in modo tale che non si vedesse poi dall'altra parte e dietro appunto sempre per attaccare il velcro ho fatto l'altra cucitura vabbè insomma non è proprio precisissimo ma a me piace molto come è venuto poi la seconda cosa che vi faccio vedere è un anello fatto in fimo con la tecnica swirl so già che non si vede benissimo quindi metterò le foto dopo ogni presentazione diciamo allora qui ho messo la base dell'anello ho attaccato la perla tra virgolette con della colla caldo e appunto questa perla è fatta con fimo tecnica swirl quindi ho preso dei colori li ho mixati e facendo questo gesto viene appunto questa perla un po' variegata e poi ho applicato una stellina rossa sempre con la colla caldo poi con la tecnica dei pisla anche questa è la prima volta che faccio una cosa del genere perché non l'avevo mai usati ho fatto questa scatolina allora questa è la parte davanti quindi ho fatto questa sequenza non è perfettamente centrata perché le misure del cupcake non consentivano di fare una cosa proprio diciamo centrata però questo appunto è il primo pannello che sarebbe il coperchio dietro ho messo per fare un po' di spessore un pezzo di carta da decoupage poi questa è la parte sotto come vedete quindi c'è la parte tutta azzurra qui e un altro cupcake uguale come vedete e poi gli strati li ho fatti in modo da creare altri cupcake sul lato quindi chiusa risulta così vedete quindi questo è proprio il primo in assoluto che faccio ho fatto cose semplici tipo i fiorellini queste cose qua ma la cosa diciamo cosa 3D la primissima è questa quindi io sono contenta di come è venuto poi la quarta cosa sono degli orecchini fatti in fimo adesso il sistema vedete e sono degli orecchini fatti appunto col fimo fatti a mano quindi non ho utilizzato stampi li ho fatti a mano e li ho anche dipinti a mano effetto antichizzato tipo toon ci tengo a precisare che sono fatti proprio a mano non con stampini di nessun tipo e ho utilizzato la pittura acrilica per per fare il nero mentre per fare l'oro ho utilizzato i pigmenti appunto oro e poi ho messo la monachella insomma come al solito poi l'ultima cosa sono sempre orecchini ma li ho fatti con perle e tecnica wire quindi filo di ferro lavorato con le pinze per creare varie forme e questi li ho fatti pensando un po' tipo all'universo non so un po' fantasiosi vedete ho scelto una perla grigia lucida e la bellezza di questi secondo me di questo tipo wire in generale è che uno dall'altro non vengono esattamente uguali ma leggermente diversi anche questi sono i primi wire che faccio quindi ecco quindi vi rimetto qui il tutte le creazioni che presento ecco qua quindi queste sono quelle creazioni che presento quindi il portamonete in feltro cucito a mano gli orecchini in fimo effetto antichizzato diciamo formati dipinti sempre a mano senza appunto stampini né niente orecchini con tecnica wire anelli in fimo con tecnica swirl e scatola in 3D con tecnica dell'episla o amabiz perle da stirare come le volete chiamare quindi questo è tutto quello che presento spero che che vi piacciono che piacciono anche soprattutto alle croix e niente ci vediamo al prossimo video ciao e grazie dell'opportunità di questo contest ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti